L'attaccante Christian Iba vestirà la maglia rosso-blu per la stagione 2017-2018. Il giocatore a lungo inseguito dalla dirigenza della Torres ha già iniziato ad allenarsi con i nuovi compagni per essere a disposizione del tecnico Tortora. Nato a quarto il 25 agosto del 1983, Iba negli ultimi quattro anni ha giocato nel Santiodoro e in carriera dopo aver messo a segno oltre 200 gol ha vinto più volte la classifica marcatori. Le sue prime parole in rosso-blu spiegano la scelta di vivere questa avventura a Sassari. Dopo i quattro anni a Santiodoro e 34 anni suonati, la mia idea era di smettere e impegnarmi di più sul lavoro piuttosto che sul calcio, dove avevo già dato il mio contributo. In realtà il campo mi è mancato e devo dire che l'insistenza della società, del presidente e del direttore sportivo, oltre che del mister Tortora, mi hanno convinto a rimettermi in gioco. Dopo 15 anni in eccellenza posso dire di conoscere questo campionato e so cosa posso dare. Voglio aiutare la Torres dando il mio contributo nel portarla nelle posizioni più alte in classifica. Iba è cresciuto nel Sant'Elena, squadra in cui ha militato per tre stagioni con 46 gol. Per lui la Torres è stata solo sfiorata nel 2002, ma allora il trasferimento non riuscì. Nelle stagioni successive ha proseguito a suon di gol nel quarto 2000 a capocannoniere e nel Selargius mettendo a segno altri 19 gol. Nel 2009 un campionato vinto con la maglia del San Luri e poi Progetto Sant'Elia con cui ha vinto il campionato 2010-2011 conquistando il titolo di capocannoniere con 23 reti. In seguito Tavolara, Porto Corallo e Lanusei. Dal 2013 nel Sant'Eodoro ha messo a segno 48 gol in tre stagioni. Lo scorso anno, con la fascia da capitano, ha guidato il Sant'Eodoro alla salvezza in Serie D.